L'anniversario della caduta del muro di Berlino ha inasprito le diffidenze russe nei confronti dell'Occidente. A Cacania, città della Bosnia centrale, si ripropone il ricatto industriale tra il bisogno di lavoro e il diritto alla salute. La questione dell'aborto è la politica per le famiglie nella Polonia di Kaczynski. A Casa Vecchio di Puglia nove comuni del Meridione si sono uniti per difendere le tradizioni della comunità Arbrecht. In Croazia si discute della decisione del comune di Fiume di restaurare il Galeb, lo yacht presidenziale del maresciallo Tito. L'anniversario dei tre decenni dalla caduta del muro di Berlino in Russia è passato sostanzialmente sotto tono. Per una grande potenza ricordare una sconfitta non è gradevole. Nelle discussioni e negli articoli usciti sui media di Mosca o San Pietroburgo è stato rimarcato come i leader politici e militari russi nel 1989 non fossero all'altezza della sfida con la storia. Con un sottinteso sempre presente, con i capi di oggi, con Vladimir Putin, l'impero sovietico non sarebbe crollato. Di fatto però l'anniversario della caduta del muro ha rinfocolato un risentimento russo nei confronti dell'Occidente. Questa frattura è stata determinata dalla decisione sovietica di Gorbachev di mollare l'impero europeo per salvare l'Unione sovietica con il risultato di perdere entrambe e per conseguenza con l'avanzata dell'impero americano, ovvero della Nato e dell'Unione europea, verso la frontiera russa in una posizione che è simile a quella che avevano i soldati della Wehrmacht il 22 giugno 1941, il che spiega anche una certa psicosi russa. Il timore dell'accerchiamento, la sindrome dell'accerchiamento da parte dell'Occidente è un fattore acclarato che condiziona le reazioni e la strategia del Cremlino. Un timore che il Cremlino usa per giustificare operazioni militari e occupazioni di territori di paesi vicini, ad esempio la Crimea o l'Ossezia. Come cancellare questo riflesso geostrategico dei vertici del Cremlino? Ma credo che non ci sia moltissimo da fare, se non, ma non vedo come e quando, una scelta americana di giocare la carta russa contro la Cina. Per il momento gli americani mi sembrano molto decisi a combattere contemporaneamente i russi e i cinesi, creando per conseguenza questa strana coppia sino-russa. È paradossale che siamo qui a Trieste, che una volta era la frontiera verso la Jugoslavia, intesa in senso più lato, verso l'est dominato dai sovietici, e ci troviamo in un luogo dove americani, russi e cinesi si contendono il privilegio di essere dominanti. La Cina ha individuato Trieste come uno dei principali sbocchi marittimi della via della Seta. In questo momento il focolaio più intenso, più grave dello scontro tra la Russia e l'Occidente è l'Ucraina. È possibile una trattativa di pace per il Donbass? Probabilmente attraverso una forma di congelamento del conflitto, dando un certo grado di autonomia alle regioni russe o russofone dell'Ucraina orientale e lasciando il resto dell'Ucraina almeno per qualche anno in una zona intermedia. Se poi la Russia dovesse ulteriormente indebolirsi, a quel punto anche il resto dell'Ucraina potrebbe diventare parte della NATO. Ma l'Europa può avere un ruolo e all'altezza di una simile ambizione? No, perché non ha una sua soggettività politica e quindi questo significa che le politiche dei vari paesi europei quando ci sono riguardo all'est sono molto diverse fra loro. Certamente la Germania ha un ruolo più importante di altri paesi e quello che effettivamente gli americani temono è che ci sia nel tempo un avvicinamento tra tedeschi e russi che possa creare loro dei problemi anche perché appunto dietro i russi ci sono anche i cinesi. In Germania, nonostante le guerre commerciali di Donald Trump, un avvicinamento con la Russia viene vagliato con estrema prudenza. A perorare più coraggio in questa direzione sono al momento soltanto alcuni ambienti industriali. Il conflitto tra la difesa dei posti di lavoro e la tutela dell'ambiente non è un'esclusiva italiana e proprio nei Balcani vive alcune delle punte più acute. Il cantone di Zenica in Bosnia-Herzegovina rappresenta da questo punto di vista un caso piuttosto significativo. Le centraline per la misurazione della qualità dell'aria sistemata nei pressi dell'acciaieria di Zenica, uno degli impianti più grandi del continente, hanno registrato tra il 2001 e il 2017 una media di oltre 200 sforamenti dei valori per ogni anno. Dati resi noti dalle associazioni ambientaliste e ai quali però in pochi hanno voglia di guardare, come ci racconta un giornalista che si è occupato più volte del tema per una testata indipendente. Il più delle volte che solleva dubbi sulla qualità dell'aria che respiriamo viene accusato di mettere a repentaglio l'occupazione. L'ambientalismo non è certo in cima alle preoccupazioni delle persone, prima di tutto viene l'urgenza di avere un salario sufficiente per mantenere la propria famiglia. E' la stessa contraddizione che vive Kakagne, cittadina di 40.000 abitanti a poca distanza da Zenica. Qui tutto o quasi ruota intorno alla termocentrale che dà lavoro a oltre 1000 persone. Ad alimentarla c'è una miniera di carbone dove il numero delle persone impiegate è di 1800 e poi c'è anche un cementificio. Ma da attirare l'attenzione è soprattutto la centrale, il cui piano di ampliamento è stato recentemente bloccato da un esposto presentato da uno ANG locale. I dati sull'inquinamento ambientale della centrale di Kakagne sono evidenti, ma non sempre le battaglie ambientaliste vengono accolte con simpatia dalla popolazione locale, anzi la diffidenza è piuttosto alta. Abbiamo portato avanti questa battaglia non perché siamo contrari all'espansione della centrale, ma perché ci sono delle regole che vanno rispettate e noi chiediamo solo questo. In particolare vogliamo che vengano montati i filtri per la desolforazione che c'erano stati promessi e che non abbiamo mai visto. Ad Armanforte alle richieste della ONG, seppur con le dovute cautele istituzionali, c'è il giovane sindaco che ha creato un'alleanza con l'amministrazione di Tuzla, dove c'è un impianto uguale a quello di Kakagne. Recentemente il primo cittadino ha scritto al governo centrale per sollecitare gli interventi per ridurre le emissioni dei camini della centrale. Questa è una città industriale e l'inquinamento è il frutto delle attività economiche principali. La questione è quindi molto delicata. Abbiamo chiesto al governo che vengano installati entro il 2019 i nuovi filtri. Solo dopo si potrà procedere all'ampliamento. Nel frattempo vogliamo ottenere i risarcimenti che ci spettano. Soldi che l'amministrazione vorrebbe spendere anche per aumentare il numero delle case collegate alla rete del riscaldamento, perché gli edifici che utilizzano caldaie autonome producono un inquinamento paragonabile a quello della termocentrale. Proprio il sindaco ci fa vedere una ricerca che testimonia come il 60% dell'inquinamento sia proprio il frutto del riscaldamento domestico. Una battaglia che poi è anche un fatto di cultura e non a caso Alternative organizza ricorsi nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi su questo tema. Per dare un'idea del problema basta dire che a settembre 2018 gli abitanti di Caccagni con un tumore ai polmoni erano oltre 500 e il numero cresce ogni giorno, così come crescono altre patologie che non vengono conteggiate come asma e problemi respiratori. Lavoriamo con i ragazzi delle scuole perché vogliamo che il tema si radichi nelle loro coscienze prima che sia troppo tardi. La povertà di mezzi economici del paese certo non aiuta, ma anche da queste parti c'è chi si impegna perché il diritto al lavoro non sia in competizione con quello alla salute. Sono tre i casi in cui in Polonia è consentito interrompere una gravidanza in modo legale e cioè in caso di grave malformazione del feto, in caso di stupro o in caso di pericolo di vita della madre. La legge polacca, annoverata tra le più restrittive in Europa, è in vigore dal 1993. Fino agli anni 90, infatti, la Polonia comunista era considerata uno dei paesi più permissivi in materia. Una questione tornata sotto i riflettori pochi mesi fa per la proposta parlamentare intesa ad eliminare le malformazioni del feto tra le casistiche consentite. Appassionate le proteste di oltre 100.000 donne a Varsavia e in altre città organizzate dal movimento Sciopero Femminile che sono riuscite a scongiurare i cambiamenti legislativi. Riaperto il dibattito in tema in una nazione in cui vivono molti cattolici osservanti. Con tutte le analisi e gli esami che abbiamo a nostra disposizione, quando vediamo un bambino fin dal concepimento, com'è possibile essere a favore della privazione della vita? Qui non si tratta solo di questioni squisitamente religiose. Qui non si tratta di essere cattolico, protestante, islamico, ateo. Qui si tratta di avere a che fare con una creatura, un essere del tutto innocente. Sono a favore dell'aborto, come sono a favore di qualsiasi altro tipo di operazione di carattere medico, quindi della libertà di scelta delle donne su cosa fare del proprio corpo. A volte la contraccezione può fallire e il feto può presentare malformazioni che rendono necessaria questa decisione. Sono profondamente liberale e penso che l'aborto dovrebbe essere una decisione personale. Se qualcuno se la sente e lo vuol fare, dovrebbe essere accessibile secondo richiesta. Io sono cattolico, cristiano, abbastanza conservatore, di destra, quindi ovviamente la mia posizione in materia è abbastanza chiara. Io sono completamente a favore della vita, quindi sono assolutamente contro l'aborto. La legge ora in vigore è un disastro e se dovesse essere ulteriormente inasprita, di sicuro si assisterebbe a un turismo diretto in Germania, Inghilterra o altri luoghi in cui praticare un aborto. In realtà già ora i media discutono sul numero delle donne polacche che ogni anno espatriano per abortire per cause che non sono contemplate dalla legge in vigore. La stampa internazionale calcola circa 80-150 mila casi l'anno. Difficile però stabilire i numeri certi. Si tratta di statistiche che non sono ufficiali. A mio parere sono fornite dalle organizzazioni della sinistra, a cui non dobbiamo necessariamente credere. A mio parere 100 mila non è un numero corretto per quantificare le polacche che espatriano ogni anno per abortire. Sono molte, molte di più in realtà. Le polemiche si sono riaccese lo scorso ottobre con l'approvazione da parte della Camera di un disegno di legge che prevede una pena di tre anni per chi promuove i rapporti sessuali di un minore. Un'iniziativa che prevede punizioni anche in ambiti professionali relativi all'istruzione o alla cura, dagli insegnanti ai medici, imprigionabili anche quando danno consigli o rispondono a domande sul sesso in presenza di minori. A Cracovia abbiamo già organizzato una protesta sotto la cura. Ci sono bastati pochissimi giorni per organizzare le proteste contro la restrizione sull'aborto e scendere in strada. E questa volta, per la legge sull'educazione sessuale, ci abbiamo messo un solo giorno. Vi possiamo garantire che la prossima volta ci metteremo soltanto un'ora. Grazie a tutti. Se si considera che nello stesso periodo la produzione nel settore è aumentata di sette decimi di punto nell'area dell'euro e addirittura di soli tre decimi di punto nell'intera Unione Europea. Benvenuti a Casalvecchio di Puglia Siamo in uno dei comuni dove gli Arbrecht mantengono in vita la propria lingua e le proprie tradizioni secolari. Casalvecchio di Puglia, Casalveci in Arbrecht, è un comune di circa 1800 abitanti. La sua origine risale alla fine del 1400. Siamo qui in un giorno particolare per l'arberia. Oggi i rappresentanti di nuove comuni firmeranno un protocollo d'intesa per la promozione dell'identità e della cultura Arbrecht, ospite d'onore il Presidente della Repubblica di Albania, il IRMETA. Eccoli i nuove comuni che uniranno le proprie forze in difesa dell'identità culturale. Sono molto distanti tra loro e questo rende più difficile il lavoro comune. Da dove cominciare? Dobbiamo puntare per la conservazione della nostra origine, della nostra cultura, dobbiamo iniziare dai più piccoli. La conservazione della lingua è fondamentale per fare questo, dai più piccoli ai più grandi, anche la generazione intermedia, ma tutti, tutti per salvare la nostra lingua. I più piccoli sono stati loro ad accogliere il Presidente META. Noi a Casalvecchio impariamo un po' di Arbrecht in casa, ma sarebbe bello poterlo imparare anche a scuola. Siamo molto fieri di tutto ciò che hanno fatto per preservare il patrimonio culturale e linguistico, ma anche per il consolidamento dei rapporti fra l'Albania e l'Italia. La cultura Arbrecht è un patrimonio per l'Italia e l'Europa. Alla festa di piazza è seguita una conferenza sullo sviluppo dei rapporti socio-economici tra le comunità Arbrecht e l'Albania. Il governo albanese ha adottato una strategia nazionale per la diaspora, curata da un ministero dedicato che guarda i propri emigrati, anche quelli storici, come ad una risorsa. C'è questa rinascita dei rapporti sulla quale stanno spingendo molto le istituzioni albanesi, con chiaramente la collaborazione delle istituzioni italiane in generale, ma in particolar modo ovviamente dei paesi e delle comunità Arbrecht. Lei porta un nome abbastanza pesante, perché? Beh, sono uno dei discendenti di Giorgio Castrello Tascander, perché è l'eroe nazionale dell'Albania. La firma del protocollo ha concluso la mattinata, ora comincia il lavoro. Mirio Pascini in Catundi È stato uno dei simboli della Jugoslavia di Tito, il Galef, il Gabbiano, la nave su cui il leader della Jugoslavia socialista riceveva teste coronate e statisti, ma anche attori e protagonisti del jet set internazionale. Sui ponti del Galef sono sfilati Elisabeth Taylor e Richard Barton, Julbriner, Silvia Koshina, Sofia Loren e Ponti. La nave, corosa dalla Salsedine e dall'Incuria, da anni è attraccata nel porto di fiume. L'amministrazione della città croata, che nel 2020 sarà una delle capitali europee della cultura, ha deciso di restaurare lo iote e di trasformarlo in museo. Una nuova vita per la nave costruita nel 1938 a Genova come trasporto veloce per le banane del neonato impero di Mussolini, poi trasformata in posamine durante la guerra, affondata nel 1944 nel porto di fiume e poi recuperata dagli Jugoslavi. Una nave, innanzitutto, per i viaggi presidenziali e diplomatici di Tito, in cui Tito compie alcuni dei suoi viaggi più importanti. Compie il primo viaggio, per esempio, dopo la rottura con l'Unione Sovietica, nel 1953 va in Inghilterra proprio con questa nave ed è dalla seconda metà degli anni 50 che inizia a fare una serie di viaggi in quello che era definito il terzo mondo e quindi va a fare il primo viaggio in India, dopodiché inizia a girare tutti i paesi africani e qui, proprio su questa nave, nasce l'idea di creare il movimento dei non allineati. Ed è proprio su questa nave che ci sono le discussioni, i dibattiti, che portano al compimento di questo movimento che verrà creato poi con la conferenza di Belgrado nel 1961. La decisione di trasformare il Galeb in museo ha provocato una violenta polemica nel Consiglio Comunale di Fiume con la destra conservatrice che ha accusato il sindaco socialista Wojko Obersnel di voler creare un monumento a Tito. La memoria del periodo jugoslavo comunista in Croazia è divisa. Le reazioni dipendono dal vissuto della persona oppure della sua famiglia. C'è un ricordare positivo della sicurezza sociale e dello sviluppo industriale. C'è invece un ricordo altrettanto radicale ma negativo riguardante la repressione, la negazione non tanto dei diritti democratici ma di quelli nazionali e religiosi. Ma nella politica e nella società croata, quanto è ancora presente questa discussione sul passato jugoslavo e socialista? Nella campagna elettorale ora in corso la presidente Kolinda Grabar-Kitarovic ha definito la Jugoslavia uno stato dove c'era un solo tipo di yogurt. Ora tutti discutono di questo yogurt del passato, ma nessuno dei candidati pensa di proporre qualche idea anche per il futuro. Il comune di Fiume con la trasformazione del Galeb in museo punta soprattutto al nuovo bacino del turismo mondiale, l'Asia, e in questo contesto sul Galeb verrebbe presentata la storia del movimento dei non allineati, la più grande intuizione di Tito in politica estera. Recuperare tutta questa serie di elementi che contraddistinguono questa pagina della storia sarebbe importante. Sarebbe importante per restituire questa dimensione globale, ma anche per restituire questa pagina della storia alle nuove generazioni nate in Croazia dopo la dissoluzione della Jugoslavia. E di questa pagina sono poco accogliente. Sui sei ponti e nei saloni dello yacht saranno presentate anche la storia della nave e della città. Per il restauro del Galeb il comune di Fiume ha deciso di investire circa 4 milioni e mezzo di euro.